Ti stiamo invitando al Youth for Human Rights International, il Summit dei giovani sui diritti umani 2023. Ciao, sono Annie, del portale LadySylviaNationalNetwork.net. Partecipare al 17esimo Summit internazionale dei giovani sui diritti umani con Youth for Human Rights International è di estrema importanza per i nostri giovani. Il 17esimo Summit internazionale dei giovani sui diritti umani si terrà il 6 e 7 luglio 2023 presso la sede delle Nazioni Unite a New York. Il tema del Summit 2023 è Un mondo giusto per tutti. Il Summit sarà seguito da una celebrazione multiculturale dei diritti umani l'8 luglio a Harlem, New York. Leggi l'articolo per poter avere tutte le informazioni. Seguici sul portale LadySylviaNationalNetwork.net per tutti gli aggiornamenti.